Buonasera e benvenuti alla prima delle due serate che Carta Carbone Festival ha forsemente voluto per proporre un'attesa diversa di quello che è il grande evento a cui Treviso si sta preparando, la Dunata del Piazza. Ormai mancano pochissimi giorni, meno di una settimana, il 12, 13 e 14 maggio, con il Treviso di tutta la provincia, ospiteranno infatti la novantesima Dunata Nazionale degli Alpini. In collaborazione con l'Associazione Culturale Minia Bola, con il Comune di Treviso, con l'Anaco, con il Treviso 2017 e con la Casa di Fice Musia, abbiamo scelto di aspettare la Dunata mettendoci in fisica struttura, in letteratura e in fantasia. Questa prima serata è dedicata alla premiazione del concorso letterario che è stato lanciato all'inizio dell'anno da Carta Carbone, proprio in occasione del grande evento della Dunata. Alpini, il pudore del valore era il tema proposto dal concorso. Buonasera a tutti, io ringrazio tantissimo Carta Carbone per questa bella idea di aspettare la Dunata coinvolgendo le scuole, penso che questo sia proprio quello che racchiude il segreto della comunità degli alpini. Però, visto che siamo nell'ambito di un concorso letterario, spero che questa Dunata sia per tutti noi qualcosa di divertente, nel senso etimologico del termine, qualcosa che ci porti a volgere lo sguardo da un'altra parte, non perché guardiamo lontano, ma perché ci togliamo dalla nostra quotidianità e facciamo lo sforzo di avere la simpatia, la capacità non credere di una dottuta, ma di sentire e di battere delle stesse emozioni che ci portano gli alpini, che siamo quelle del ricordo dell'era di guerra, del ricordo dei caduti, e siamo quella della serietà e delle nostre intellettuali che portano nella loro quotidianità. E questa è una dottuta che non si introdurla. Grazie a tutti. A termine di questa serata, come pure in quella del 10 maggio, non andate via perché ci sarà un brindisi di là tutti insieme, offerto dal nostro preziosissimo sponsor Vivo Cattino sempre presente e questa volta anche dal previso del Cattino. Grazie Sara. Devo fare semplicemente dei ringraziamenti e doverosissimi. Naturalmente all'amministrazione quindi assinita tra i professori qui presenti, alle professoresse che le dicono a prendiamo in rappresentanza dell'educa degli abruzzi, alla professoresse Mascialè Escolaro e la Presidente dell'Istituto Vesta, appunto a Generale Renato Genovese, delegato dal Presidente Nazionale ANA, Sebastiano Fabio, in qualità di consigliere nazionale ANA, membro del COA e del Presidente Nazionale per l'Associazione di Previso. A tutti gli alpini naturalmente che la prossima settimana ci onoreranno della loro fisica, affussiamo profondamente i riconoscetti per la storia che in passato ha segnato le pagine truate dell'Italia. E un grazie speciale a Renzo Secco che con la sua energia e anche in capabilità ha rinstalizzato questa zona di previso con le numeri di attività che si sono tolte in questo territorio, vestite e organizzate in persona. Grazie a tutti. Buonasera. La domanda del fiato, una magnifica occasione per riprendere un concetto, il pudore del valore. In un mondo sempre più rovoante, frenetico e immediato nelle comunicazioni, brusco e anche violento a volte dei rapporti e dei contesti, il pudore ed il silenzio, c'è un gran bisogno di silenzio, diceva Gaglia, il silenzio che spesso lo accompagna diventa determinante per esaltare in meglio il valore di un essere e il valore di essere, esattamente come accade con gli alpini, una delle eccellenze del nostro paese. Questo è il senso del concorso che abbiamo voluto realizzare con il Comune di Treviso, con l'Associazione Nazionale Alpini, con l'editore Nuzia, la rinomata casa mettrice e casa letterale degli alpini e che effettivamente abbiamo voluto condividere per fare in modo che i concetti citati nella braccia del tema diventassero pervasili, alpini di guerra e di pace, gli alpini che fanno, che costruiscono, entrambi accomunati con estremo pudore da un concetto, unità, il gruppo, essi sono un modello di unità, hanno unito ed uniscono persone nelle nazioni di guerra e di pace, hanno unito ed uniscono gente di provenienza diversa, dal nord a sud, sotto la penna asbina, hanno unito i dialetti e quando si unisce dialetto a dialetto si uniscono sentimenti profondi ed emozioni, contribuendo, come hanno fatto e fanno silenziosamente gli alpini, con pudore, alla costruzione robusta dell'anima di una comunità, includendo, accogliendo, non escludendo. Devo aggiungere che proprio perché gli alpini sono un modello partecipativo di solidarietà, di inclusione, noi nel concorso abbiamo fatto letteralmente la nostra parte e per la prima volta in assoluto crediamo nel panorato nazionale, l'editore Fiorenza Murcia l'ha confermato, rivolto anche alle scuole, abbiamo inserito una norma inclusiva per gli alunni con bisogni educativi speciali, consentendo anche il racconto di pubblico, cioè il racconto elaborato da una classe in cui un ragazzo più fragile, come un ragazzo con disabilità, potesse partecipare attivamente nel gruppo con il proprio contributo, facendo in modo che, proprio come gli alpini, nessuno dovesse essere lasciato indietro. Torneremo con altre innovative iniziative nei dintorni di Carta Carboni, il Festival della Dettatura Autobiografica, il Festival delle Dite delle Persone, come mi piace immaginare, iniziative che avranno il desiderio di contribuire con la letteratura, e non solo, nel nostro territorio a progresso etico, culturale e di solidità, come tutti, per tutti, come ad esempio stiamo pensando a nuove sezioni che avranno le persone con disabilità da una parte e i ragazzi dall'altro al centro di molteplici iniziative. E se riuscissimo a coniugare entrambe le esigenze, il Treviso diventerà una città pedagogicamente ideale, preghia di cultura, di qualità significativa, socializzante e diffusa. Proprio perché, come dice Gao Saint-Jean, la cultura non è un lusso, è una necessità. Dopo questa magnifica letteraria storia di valori, di emozioni, di ricordi, è stato il momento delle premiazioni, delle vincitorie del concorso e di fudore del valore. Con me c'è Giulia che leggerà alcuni frani, dei frani, dei pezzettini, dei due pezzi, dei due racconti di ricordi. Iniziamo con la categoria forse più apprezzata e più nominata questa sera che è quella degli studenti. Giulia. È stato da... per fare l'albino devo farmi invitare? Finalmente sto tornato a casa. Oggi è il mio compleanno e spero, anzi sono sicuro, che il regalo che aspetto da un po' sia ciò sulla mia scrivania. Entro, saluto e tra baci e tirati gli orecchi che mi fa mia sorella chiedo cosa mangiamo. Faccio finta di niente perché conosco i miei, ma sento che dentro sto esplodendo di curiosità. All'improvviso arriva mio fratello, mi fa un grande sorriso e l'occhiolino. Capisco che è arrivato, mi abbraccia, mi fa gli auguri e mi dice sottovoce, è fichissimo. Ed io non dirmi che l'ho già provato. E sento già la delusione di non essere stato il primo. Ma poi urla, dai scherzo, andiamo in là. Eccolo, il mio nuovo videogioco, Alper's Duty. Un racconto sincero, scritto in maniera chiara, fresca, originale, riflette un senso civico per la giovane età. Così Pierluigi Cappello, membro della giuria del concorso, si è espresso sul racconto per fare l'albino, devo fare il militare, di Jacopo Ferraiolo, al quale chiedo di raggiungerci qui, alunno della classe prima fine di liceo linguistico Luca degli Abruzzi del Treviso. Chiedo per lui un ringrazio. passiamo alla categoria nazionale, estratto dall'alpino d'Italia dell'esercito fascista alla resistenza partiziona. Kanchan tentava di risolevarci in morale e rafficchiando vivere. Stava cancando anche la mattina del 23 dicembre, mentre eravamo sotto il fuoco dell'artiglieria nemica tra le macerie. Quando svise, mi voltai, lo vidi a muto lì, gli occhi sgranati. Le sue spoglie riposino a cantarmento, insieme a quella di migliaia di soldati italiani. Eravamo maltrimenti. Bastava farsi sorprendere dal sonno indotto dall'Ineia per finire assiderato. Ogni mattina si faceva racconta dei corpi vetrificati che brillavano il sole. si caratterizza per una singolare capacità sintetica, una pulizia di sguardo, estrema sincerità e un fraseggio antiretorico. Così si espressa la giuria sul racconto l'alpino vitale, Pizzello Giuliani. Sono i racconti, una parte, diciamo, dei racconti di tutti che sono arrivati, saranno pubblicati nei prossimi giorni, come è stato fatto anche con i racconti della solidarietà e sul terremoto a Natale, dalla tribuna di Previgio, che ringraziamo perché è veramente sempre e sempre vicina a Cacca Carbone Festival e alle nostre iniziative. Però non è finita qui con le premiazioni, perché la giuria ha voluto dare anche due menzioni d'onore. La prima, alla classe prima B del liceo linguistico Duga degli Abruzzi, come classe tutta intera, assieme alla loro professoressa Martignavo, che ha fatto lavorare gli studenti su questo progetto e gli ha fatti partecipare al concorso e come singoli studenti, perché 25 dei 7 racconti ritrati dalle prime classi e delle superiori sono di questa classe. Secondo, mi chiede dolore, alla classe prima B, sempre, ma dell'Istituto Professionale Statale Vesta e alla loro insegnante, la professoressa Scolaro, che chiedo anche a lei di raggiungerci qui. È la motivazione della giuria, per aver accettato la sfida inclusiva contenuta nel concorso letterario albini, Tudore del Valore, e aver partecipato con l'apprezzata elaborazione di un racconto di classe, dimostrando nei fatti che nessuno deve rimanere indietro, proprio come hanno insegnato nella storia e insegnano nella pratica quotidiana degli albini, ed offrendo un mirabile esempio pedagogico di un disegno culturale inclusivo e socializzante in una classe assolutamente necessaria per la costruzione di un paese pregno di solidarietà verso tutti e in particolare verso le persone più fragili. Premi alle due insegnanti in generale. applausi 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 ...invitare tutti i ragazzi che hanno partecipato al baso concorso. Un attimo che vedranno tutti e abbiamo un prezzerino per tutti. Quindi chi ha partecipato si alzio e venga un secondo che facciamo una fotografia e abbiamo un prezzerino. applausi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.